Ecco Adrian e poi chiudiamo con Cinzia Meroni, scusate, mi scuso in anticipo con gli altri purtroppo Grazie Lorenzo Ciao Fasto, ciao Francesca, piacere mio, sono Adrian di faremusic.it Vi volevo innanzitutto ringraziare perché voi siete una coppia che veramente comunicate tantissimo sul palco e la vostra empatia è assolutamente visibile, molto diversa diciamo dal tessuto che hanno messo tra i due microfoni la micchia e le fedez Grazie Nel senso che voi si vede proprio che avete un'alchimia e questa cosa qua mi piacerebbe vederla presto live se riusciamo a uscire da questa cosa e la mia domanda era proprio su questa, nel senso che io vorrei sapere da voi se avete in programma un qualcosa se fossimo chiusi come fosse un home concert o se fossimo aperti nel live se ci potete dare qualche idea di quello che potremmo vedere da voi Ma quello che vorremmo fare noi, visto per i concetti futuri, visto che il momento che stiamo vivendo e visto anche l'album che abbiamo appena finito ci piacerebbe mettere su uno spettacolo molto più suonato, magari meno fumi e raggi laser ma più ciccia più ciccia sì, e anche perché poi nel senso senza girarci troppo intorno, nello spettacolo i soldi sono ovviamente vaporizzati Sì, vanno ottimizzati adesso Vanno molto ottimizzati E' proprio per questo, la mia domanda era proprio per questo, per far rivivere anche un po' questa parte Eh sì, sì, tra l'altro E quindi diamo più valore ovviamente ai musicisti e alla musica per davvero Asciugheremo molto lo spettacolo dal punto di vista scenografico Certo, comunque noi ci saremo in ogni caso Grazie, vorremmo anche allargare, infatti eravamo in 5 sul palco, vorremmo essere in 7 o 8 Insomma, vediamo quello che si riuscirà a fare Bravo, 7 chakra, bravi, fate bene In bocca al lupo ragazzi Viva, grazie